Mister Erminio Rullo, questa sosta che sta spiazzando un po' tutti, tra vari decreti, che ne escono molti al giorno, ma tu sai come gestire questo tipo di situazione? Sì, è una situazione particolare, perché è una sosta così lunga, dobbiamo modificare un po' tutti gli allenamenti, la gestione di questo periodo, perché andiamo verso un periodo molto importante e cruciale dell'annata, quindi sarà importante mantenere la concentrazione alta. Cerchiamo di prendere quello di positivo che è la sosta, senza recuperare gli infortunati, metterci a posto chi ha acciaccato e andare a lavorare sugli errori che magari facciamo la domenica, quindi dobbiamo sfruttare questa sosta per questo. Ecco, c'è un segnale da lanciare appunto per questo, perché la lotta che riguarda il vertice, poi subito dopo venite voi, non è un caso, perché avete fatto diversi sacrifici per questo e poi per i ragazzi crediamo sia un sogno questi playoff. Sì, noi ripeto, guardiamo domenica dopo domenica, i ragazzi hanno fatto un percorso importante, siamo partiti con lo scetticismo di tutti, perché è una squadra di pescata, una squadra che è stata costruita con poco, quindi è il merito dei ragazzi, i sacrifici che fanno, il lavoro quotidiano che fanno, quindi è un peccato buttare via tutto nelle ultime partite, quindi ho detto loro di credere in quello che fanno e soprattutto perché hanno delle qualità importanti per crederci fino alla fine. Qualità che forse vanno anche, sono un po' fuori dal campo, perché ricordiamo quella settimana dove si sono messi a spalare la neve, questa è un'altra nota di merito, ha detto di molti ragazzi che hanno detto abbiamo capito cosa significa lavorare. Sì, vabbè, il lavoro è chiaro che è altro, nel senso che c'è gente che si sveglia di settimattina per andare a lavorare, per loro questo è un lavoro, nel senso che devono portare i soldi a casa, c'è ragazzi giovani, c'è anche ragazzi grandi che vengono dall'Argentina, fanno sacrifici, quindi va preso come un lavoro e devono sentirsi dei professionisti, anche se non lo sono sulla carta, non siamo tutelati perché in Serie D siamo dei dilettanti, però in campo e fuori dal campo dobbiamo fare professionisti, questo è quello che cerco di portare a loro, devo dire che lo fanno a tutti gli effetti. Grazie a tutti.